Monia Moni, consigliere regionale del Partito Democratico, denunciata per diffamazione e turbativa elettorale insieme al collega Francesco Gazzetti daremo Santini per un video elettorale durante la campagna per le elezioni del nuovo sindaco di Lucca. Se l'aspettava? Poi vedremo se questa querela verrà seguito o meno, per ora non abbiamo nessun tipo di informazione nel merito. Noi abbiamo semplicemente fatto un video in campagna elettorale di promozione del candidato che sostenevamo e che poi è diventato sindaco della città di Lucca, utilizzando un po' di ironia il tema che ci interessava evidenziare anche se con il sorriso però con un po' di preoccupazione era questa crescita molto importante di Casa Pound a Lucca. Mi auguravo, mi auspicavo che invece con una querela arrivasse una presa di distanze da Santini che invece ha reagito con una conferenza stampa nella quale ha affermato tra le altre cose che i fascisti non esistono. Avrei preferito invece una presa di distanze che effettivamente non solo non c'è stata ma c'è stato un arroccamento su una posizione francamente incomprensibile perché non soltanto i fascisti ci sono ma insomma sono anche piuttosto forti nella città di Lucca.